Presentata a Palazzo Giuliani la ventiquattresima edizione del Film Festival della Lessinia. La manifestazione, in programma dal 24 agosto al 2 settembre a Bosco Chiesa Nuova, rinnova accanto agli eventi cinematografici e culturali la sinergia con l'Università di Verona. L'Ateneo Scaligero curerà infatti gli incontri letterari della sezione Parole Alte. I dettagli della collaborazione nelle parole di Marta Ugolini, delegata alla comunicazione. Vogliamo proprio dare il nostro appoggio pieno a questa manifestazione culturale che via via si è evoluta e diventata grande, sempre più internazionale, ha una caratterizzazione elevata e distintiva, tocca il cinema e tocca anche altre forme di comunicazione culturale. In particolare l'Università contribuisce alla rassegna Parole Alte, incontri con i nostri docenti e autori di testi, quest'anno dedicata al tema della montagna immaginaria. Alessandra Tomaselli, docente di lingua tedesca, presenta il suo intervento alla manifestazione. A me spetterà di presentare e dialogare con l'autore del romanzo Il segreto di Pietramala. Andrea Moro è stato mio compagno di aula ai tempi dell'Università. È un linguista noto che si occupa anche di divulgazione scientifica e quest'anno ha pubblicato il suo primo romanzo. L'assenza di bambini, l'assenza di documentazione scritta della lingua e un paese disabitato sono il cuore di questo giallo che porterà il protagonista della montagna della Corsica alle montagne di New York nel tentativo di risolvere questo mistero e scoprire perché questa lingua impossibile non ha attecchito in un paesino della Corsica. Grazie a tutti.